Krunic che prova ad andarsene adesso, vede il corridoio per Marilungo, lo serve, cerca l'ingresso in area, ci riesce Marilungo, palla in mezzo, Micel Lidze! Il vantaggio dell'Empoli, la firma è di leva Micel Lidze, ottavo minuto del primo tempo, si sblocca il punteggio al Castellani con il primo gol in questo campionato dell'attaccante Georgiano, fanno 6 per lui in Serie A, Empoli 1, Cagliari 0. Selfie time, dopo il gol è questa l'esultanza per Micel Lidze, gran parte del merito però va la giocata di Marilungo.